Amici di Moni.it, ben trovati con i nostri approfondimenti. Quest'oggi torniamo a parlare un po' della nostra contemporaneità, di come si è arrivati ad oggi, non solo quando spesso si parla di dinamiche globali o globaliste, ma che si interfacciano anche con le vicende, magari che lambiscono la religiosità o il potere religioso, e il potere religioso chiaramente è rappresentato dal Vaticano e dal Pontefice, è uscito un nuovo libro di Armando Savini, si chiama Le radici del male da Malto Sabergoglio, quando il genere umano non è perfettibile. Saluto Armando, che ritroviamo con piacere. Ciao Armando. Ciao, buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, ti abbiamo pensato spesso anche in questi mesi, quando ci sono stati degli interventi anche di Bergoglio, tra l'altro anche in questi giorni è intervenuto su alcune tematiche come la proiezione assistita, o meglio dire, l'utero in affitto, l'ideologia gender e via dicendo, ma altri interventi chiaramente hanno fatto, in ciclica hanno fatto molto discutere. Intanto, come nasce questo tuo lavoro, in questa fase storica? Ma guarda, questo lavoro è il frutto di esami, di analisi che ho fatto in questi mesi, anzi da due anni a questa parte, un'analisi sia geopolitica, sia anche, come detto tu, religiosa, perché poi l'elezione di Bergoglio ha un suo impatto, anche su quella che io defino l'ultima fase del nuovo ordine mondiale. Ordine mondiale che, come già ha detto anche Tucker Carlson, è morto. E non solo lui, abbiamo visto anche altre personalità istituzionali, come Bonino, come anche lo stesso Harari, il filosofo dei Davos, del World Economic Forum, e tutti hanno dovuto ammettere oramai la verità, cioè il nuovo ordine mondiale è morto. Diceva addirittura Bonino, non funziona più nulla di tutte quelle istituzioni internazionali che rispondono, rispondevano al nuovo ordine mondiale. E lo stesso Harari ha detto, se la Russia non perde la guerra, se la Russia vince, è la fine del nuovo ordine mondiale. E fra tutti questi elementi che abbiamo visto, sia dalla cosetta plandemia, fino alla Laudate Deum, eccetera, di Bergoglio, anche fino a Fiducia Supplicans, un elemento, documento su cui tu mi avevi chiesto tempo fa un intervento, ma che non ho potuto fare, ebbene c'è un filo rosso, c'è un qualcosa che unisce tutto, c'è una visione del mondo, una visione del mondo che affonda le proprie radici, non solo in Malthus, ma addirittura ancora più indietro nel tempo. Ricordo che, nel libro poi l'ho scritto e porto tutte le fonti, anche i documenti di Bergoglio, come Laudato Si, per esempio, in cui parlava di decrescita, o anche Laudate Deum, che era il proseguio della Laudato Si, hanno questa caratteristica, cioè partono da alcuni principi che si richiamano alle visioni e al progetto del famoso Club di Roma, che fin dagli anni 70 ha svolto un ruolo chiave per quanto riguardava proprio un ripensare il mondo, un ripensare la politica e l'economia. Si parlava già in quel tempo, negli anni 70, appunto di decrescita, cioè ridurre la crescita economica e anche ridurre la crescita demografica. E tutto questo perché? Perché deriva da una visione malthusiana, sono neo-malthusiani, che, ricordo ancora, sorridevo leggendo i libri del Club di Roma, come i limiti della crescita, per esempio, che loro in base a calcolatori elettronici avevano fatto le stime di crescita. Calcolatori che oggi a vederli fanno ridere rispetto ai computer che abbiamo anche sulle nostre scrivanie. Quindi ecco, questa visione è altamente lineare, perché poi un'altra cosa che ha sempre caratterizzato l'economia liberista, che ricordiamo che è prettamente malthusiana, è la linearità. Tutto il sistema di equazioni è lineare, perché lineare vuol dire controllo. Ma avere una visione lineare, linearista, positivista, in un contesto, quello reale, del mondo reale, che invece è complesso, che risponde a delle regole e a delle dinamiche non lineari, è sempre qualcosa, a mio avviso, di sbagliato, proprio dal punto di vista di metodo, prima, ancora che di risultato. Quindi ecco, una visione linearista, positivista, bisogna ridurre l'economia, dobbiamo ridurre la popolazione e quindi creare un nuovo modello di crescita sostenibile. Tutte cose che ritroviamo oggi. Ma la cosa, a mio avviso, molto interessante, perché, vedi Fabio, vedere questa continuità tra Davos e il Club di Roma è alquanto evidente, alquanto la parissiano, quasi. Ma credo che sia interessante il legame che c'è tra quella che è la dottrina bergogliana e il Club di Roma, come anche queste correnti, queste dinamiche neomalthusiane. Perché ricordiamo che in Laudato Si, Bergoglio parla appunto di decrescita e lo dice esplicitamente. Decrescita che è un termine particolare che ritornò in voga con Serge Latouche che parlava di decrescita felice, cioè riduciamo l'attività economica, quindi aumentiamo la disoccupazione e tutti i problemi sociali che questo comporta e siamo più felici. In realtà, quando fu fatto notare a Bergoglio che stava portando avanti delle dottrine non proprio, diciamo così, che si armonizzassero con il cristianesimo, perché ricordiamo che, secondo la dottrina cristiana cattolica, il lavoro è qualcosa che nobilita l'uomo e che quindi innalza la dignità dell'uomo. Quindi è chiaro che la disoccupazione, oltre a creare problemi sociali, intacca anche la dignità dell'uomo. Ebbene, e lì qualcuno è sempre uscito fuori, dicendo, ma non intendeva questo, ma intendeva altre cose. In realtà il termine è tecnico ed è molto molto preciso, decrescita, cioè vuol dire rallentare l'economia. E sempre in quel libro, I limiti della crescita del Club di Roma, se non ero al capitolo 14, c'è un articolo di Forster e che dice proprio questo, le religioni dovranno cambiare, dovranno progredire alla luce dei nuovi piani di sviluppo economico, quindi di decrescita, e anche di rallentamento demografico. Perché il punto era questo, dice il cristianesimo è nato in un contesto in cui bisognava governare il mondo con la presenza umana, ma oggi siamo arrivati al limite, quindi il cristianesimo deve cambiare anche l'interpretazione del Vangelo, delle scritture, e quindi dare tutta una visione simbolica. E ricordo che anche, per esempio, Bultman, che era un esistenzialista, un teologo protestante, che diede il via a uno degli indirizzi principali dell'esistenzialismo teologico, che poi è quello anche di Bergoglio, ricordo, dava proprio una lettura simbolica di tutto, andava a demitologizzare la Bibbia, così diceva lui, per cui tutti quegli eventi che non rientravano in un quadro logico della sua logica, o anche del reale, della vita di ogni giorno, andavano letti come simboli. Quindi, ecco, questo è importante. Poi c'era un altro, Tillich, anche lui protestante, che dava una visione socialista del cristianesimo, sempre in questa visione dell'esistenzialismo teologico. Corrente che, in ambito cattolico, ebbe il suo massimo esponente in Arrupe. Arrupe è stato il capo dei gesuiti dal 65 per parecchi anni e che fu un personaggio particolare. È quello che, secondo alcuni, portò alla deriva i gesuiti. Se noi leggiamo un libro molto interessante di Malachi Martin, The Jesuits, ricordo che Malachi Martin era un gesuita, era ex-gesuita, che critica dal di dentro tutte le dinamiche e ci racconta che quando Arrupe arriva al governo della compagnia di Gesù le cose cambiano e comincia questa deriva teologica da parte dei gesuiti. E parla addirittura di una guerra actonia, di una guerra sotterranea al papato. Quindi l'ordine di gesuiti che fu creato da Ignazio di Loyola per servire il papato e diffondere il Vangelo diventa in un certo senso uno strumento quasi antipapale. Ricordo che Arrupe andò contro tre papi e Bergoglio nel 2018 addirittura lo ha fatto servo di Dio. Ricordo che Bergoglio non è ignaziano, ma è arrupiano. Cioè la sua visione del mondo, la sua teologia, come diceva anche Benedetto XVI, questo ricordava Bergoglio è un profondo conoscitore della filosofia francese, esistenzialista quindi anche. Quindi ecco che c'è questo filo-huge che unisce Malthus, che unisce anche Bergoglio, ma che poggia tutto su una visione del mondo che non è quella cristiana, che non è quella del logos. In alcuni testi c'è questa contrapposizione tra pensiero ortodosso, che generalmente sono i principi della logica tomista aristotelica e principio gnostico o gnosico, intendendo, sottolineo, con gnosi non nel suo termine tecnico di conoscenza o ricerca della conoscenza, ma di questa corrente che diede il via all'ognosticismo nel secondo secolo, nel cristianismo, che era una corrente ereticale che prima di essere una eresia cristiana era già una eresia ebraica basti pensare ai vari circoli farisaici che avevano, diciamo, davano letture del testo di Ezechiele, la Mercavà, per esempio, in chiave gnostica, gnosica, ecco che derivava appunto dai culti egizi, culti misterici, eccetera. Quindi ecco, c'è una visione del mondo. Il mondo è conteso tra due roccaforti del pensiero, da una parte abbiamo il pensiero cristiano, tomista aristotelico, e dall'altra il principio gnosico o gnostico. Sono due visioni del mondo che danno un giudizio diverso sull'essere. Da una parte abbiamo l'essere perfetto, che è Dio, che dà la vita all'essere creatura, quindi noi siamo essere per partecipazione, quindi la creatio ex inilo, cioè la creazione dal nulla. Dall'altra invece, nel campo dell'ognosticismo, abbiamo una degradazione dell'essere, l'emanazionismo, cioè esiste un principio unico che man mano che si espande si degrada. E da questa visione del mondo, di questa degradazione dell'essere unico, poi derivano anche la suddivisione degli esseri, degli enti, in pneumatici, in psichici e ilici, dove oggi, tradotto in termini attuali, gli pneumatici sono le grandi elite, sono le scintille divine che si autoproclamano tali. pensiamo a Harari, il filosofo di Davos, che diceva noi siamo gli esseri creatori, noi siamo le entità divine, si definisce, mentre gli psichici sono chi? Quelle persone che non appartengono al mondo divino, ma se si comportano bene e fanno ciò che dicono le scintille, prendono parte al loro paradiso, ma sempre come cittadini di serie B, è chiaro, mai equiparati. Sono cosiddetti gli utili idioti, quelli che Lenin chiamava utili idioti d'occidente, cioè quei politici, tutti, anche quei medici, tutte quelle figure che si prestano all'implementazione del progetto degli illuminati. E poi abbiamo gli ilici, gli ilici sono la gran parte della popolazione, gli inutili mangiatori, coloro che sono troppi sulla terra e che quindi vanno eliminati, quindi tramite le pandemie, tramite le vaccinazioni, come ci insegnava Bill Gates nel 2015. E quindi c'è questa tripartizione del mondo, proprio grazie a questa visione, visione che è nascosta e che è quel fil rouge che lega Malthus, che lega Davos, che lega anche una visione bergogliana di Arrupe. Possiamo dire, Armando, secondo chiaramente le tue ricerche, le tue analisi, se dicessimo appunto che il Papa è il Papa di Davos, è troppo. Ma guarda, io nel libro l'ho chiamato l'icona del nuovo ordine mondiale. È molto chiaro, lui ha fatto sue le istanze del nuovo ordine mondiale. Diciamo che lui arriva sempre un pochino prima di Davos e dà la giustificazione morale e teologica diciamo dei principi di Davos. Basti ricordare per esempio l'attacco alla proprietà privata. Davos dice non possiederai nulla e sarai felice. Il Papa, quello che si reputa essere il Papa della Chiesa Cattolica perché ricordo che molti hanno dubbi sulla validità della sua elezione e quindi possiamo dire Bergoglio ecco che arriva e dice che i comandamenti per esempio non sono assoluti. Cioè dice che la proprietà non è assoluta, non è intoccabile. Poi abbiamo anche altri fattori. Ricordo che sia da Schwab, il presidente di Davos del World Economic Forum sia Bergoglio oltre a questo fila rouge che abbiamo visto prima quindi oltre anche alla visione esistenzialista e quindi a Rupiana che collega ma abbiamo un altro personaggio molto importante che è Camara il vescovo rosso. Ricordo che Schwab in un'intervista che rilasciò qualche anno fa disse che la sua vita cambiò quando incontrò Camara e ricordo che Camara è chiamato vescovo rosso perché è stato il padre della teologia della liberazione cioè il marxismo in teologia e anche Bergoglio è legato a Camara l'ha più volte citato è un suo fan e ricordo che lo stesso Bergoglio anche lui è legato a ambiente della teologia della liberazione che in Argentina poi ha una sua variante si chiama la teologia del popolo e che era anche questo qui ricordo che Arrupe era uno dei padri della teologia del popolo quindi possiamo dire che sia Schwab sia Bergoglio sembrano proprio essere i figli di Camara di questo vescovo che in odore potremmo dire di eresia perché ricordo che il marxismo in teologia la teologia della liberazione non è stata mai accettata ufficialmente dalla chiesa cattolica ed è una deviazione dalla teologia tomista che è la teologia ufficiale della chiesa come d'altra parte anche il liberismo in teologia chiamato anche modernismo quella corrente che attaccava il dogma fin dagli anni primi anni del novecento anche quella è una deviazione dalla vera teologia ma entrambe sia il marxismo in teologia sia il liberismo in teologia affondano le proprie radici sempre nella modernità cioè nella filosofia moderna che comincia con Cartesio cioè quella filosofia che si allontana dal concetto di essere dell'essere come lo attendeva San Tommaso d'Aquino quindi dell'essere sussistente tu dici Armando anche che queste rappresentazioni che a volte sentiamo anche nel cosiddetto mondo alternativo cioè di poteri buoni poteri cattivi insomma anche questa è una narrazione che possiamo dire fa gioco al cosiddetto sistema assolutamente sì io ho visto anche molti informatori del mondo dell'informazione libera chiamiamola così che sono caduti in questa trappola alcuni sono in buona fede hanno una visione alquanto manichea del mondo bianco e nero buono cattivo altri credo che siano proprio mandati dal sistema in quanto quando manca la coerenza noi vediamo personaggi che prima cantano alcuni principi poi dopo vediamo che cadono su alcuni che per coerenza dovrebbero essere tenuti in maggior conto per esempio ecco io ho notato su due versanti sia geopolitico ma anche di matrice filosofia quindi di Weltanschau come dicono i tedeschi cioè divisione del mondo che il mondo non è diviso tra buoni e cattivi faccio un esempio molto pratico così chi ci segue può capire meglio noi abbiamo visto che il nuovo ordine mondiale che si sta il cui programma viene implementato maggiormente dal World Economic Forum di Davos porta avanti la famosa agenda 20-30 quindi economia sostenibile riduzione del CO2 tutte queste cose riduzione anche della crescita della popolazione e trasformazione delle democrazie in democrazie totalitarie l'abbiamo già visto all'epoca della pandemia eccetera le monete le famose valute digitali pensiamo alla Central Bank Digital Currency questa valuta emessa direttamente dalla banca centrale di ogni paese una valuta programmabile che potrebbe cioè che ha in sé tecnicamente tutte le capacità di trasformare una democrazia una tirannide in quanto è possibile associare a ogni conto corrente quanti beni ha comprato con rispettivi emissioni in CO2 e alla fine ti dicono ah tu hai comprato n beni hai per un ammontare di n CO2 ora ti disabilitiamo la carta se compri altri di questi beni oppure famose città da 15 minuti o smart city che non smart non sono intelligenti come si pensa che dicono ok tu fai la spesa nell'area di 5 km se esci fuori ti disattivo la carta ecco sono tutte ipotesi che possono diventare realtà con una moneta del genere ora questo tipo di moneta programmabile per cui la banca centrale ha diventa quasi onnipotente perché sa ogni dollaro ogni euro dove va a finire da dove parte e dove va a finire e anche si può anche bloccarlo come abbiamo visto per esempio in Russia quando furono bloccati i fondi russi dalle banche centrali ecco quello diventerà un gioco da ragazzi perché è una moneta che viene programmata quindi questo diventa uno strumento totalitario globalista totalitario e poi abbiamo come dicevo prima anche l'agenda 2030 l'ecosostenibilità ora se noi andiamo a decantare la decrescita quindi diciamo dobbiamo deindustrializzare dobbiamo ridurre la capacità economica dobbiamo ridurre la crescita economica perché aumentando l'economia aumenta tutto quanto il discorso dell'inquinamento della salvaguardia appunto della terra quindi che è in controtendenza eccetera eccetera ecco che allora noi stiamo creando un sistema che va contro l'uomo perché abbiamo detto decrescita vuol dire disoccupazione e chi è che deve decidere chi può lavorare e chi no chi deve restare su questa terra e chi deve partire perché siamo troppi cioè quando qualcuno arriva a dire questa terra è progettata per tre miliardi di persone e siamo troppi o siete troppi e poi non fa le valigie non dà il buon esempio e qui siamo sempre davanti a quella visione del mondo gnostica per cui gli ilici devono morire e quindi chi è illuminato chi è pneumatico e chi è psichico asservito agli pneumatici resta quindi questo diventa un piccolo Eden per una piccola elite per la quale c'è solo salvezza quindi una salvezza per pochi una conoscenza per pochi e questo dà il diritto a questi pochi illuminati di guidare il mondo quindi noi siamo gli illuminati voi siete gli ilici i mangiatori di terra finché siete utili restate sulla terra quando utili non siete più uscite di scena ecco questa è questa visione del mondo ora ricordo che anche i BRICS senza andare troppo indietro nel tempo ma nelle dichiarazioni che hanno fatto penso a Johannesburg ma anche due o tre anni fa in Cina eccetera portano avanti le istanze dell'agenda 2030 portano avanti l'obiettivo di una governance mondiale di un globalismo mondiale portano avanti anche il discorso di future pandemie tanto è vero che si parla di centro di ricerca e vaccini BRICS vaccini BRICS per le future pandemie e ora noi sappiamo come funzionano le future pandemie pandemie tanto è vero che gli inglesi le chiamano plandemics cioè definite e pianificate plan a tavolino quindi perché non è normale che con 5 anni di anticipo si saprà che fra 5 anni uscirà un virus che farà questo questo e questo questo è molto chiaro oggi quindi ecco che anche dalla parte dei BRICS abbiamo visto per esempio il ricorso alle famose central bank digital currency pensiamo alla Nigeria pensiamo alla Russia ecco anche la Russia dove è stata rilanciata una politica antioccidentale nei suoi valori quindi dove l'ortodossia dove il cristianesimo è stato rilanciato fortemente quindi l'ortodossia russa quindi il matrimonio ricordo che Putin adesso dà sovvenzioni alle famiglie si è posto contro le politiche LGBTQ eccetera eccetera quindi ha fatto una scelta molto forte ha dato un indirizzo particolare alla Russia ciò nonostante anche in Russia abbiamo il rublo digitale rublo digitale che alcuni economisti come Katasonov Valentin Katasonov ha dichiarato essere un lager digitale abbiamo anche lì una presidente della banca centrale russa che è una monetarista che viene dall'università americana e che fa diciamo gli interessi anche dal punto di vista del fondo monetario internazionale quindi è anche la sua vice un'altra monetarista quindi abbiamo dei filo occidentali nelle istituzioni ai vertici delle istituzioni russe quindi ecco questo per fare alcuni esempi ma anche dal punto di vista qui filosofico se noi guardiamo il nuovo ordine mondiale per cui la loro visione pneumatici ilici e tante altre cose ma qui vado per punti essenziali eccetera che è una visione gnostica noi ritroviamo anche qui delle basi delle filosofie moderne che sono per esempio incentrate su principi gnostici quindi sia geopoliticamente sia dal punto di vista filosofico quindi divisione del mondo sia il nuovo ordine mondiale sia il nuovo ordine multipolare presentano alcuni punti di contatto per cui possiamo dire io nel libro parlo di un possibile passaggio da quella che era una monarchia globalista cioè un ordine mondiale che faceva capo a Washington a una oligarchia globalista cioè si perseguono si perseguono sempre gli stessi obiettivi globalisti ma quelli che una volta erano i re vassalli e che hanno reso anche potente il dollaro e anche il deep state oggi diventano indipendenti e ognuno è re a casa sua quindi ognuno viene posto a capo del suo stato civiltà e gli Stati Uniti diventano semplicemente un primus inter pares e in questo progetto anche Donald Trump sembra essere diciamo perseguire questo stesso obiettivo dei PRIX sono parole che fanno riflettere proprio perché è chiaro che c'è sempre bisogno appunto di un idolo di un eroe che arriva e ci salva ma basterebbe guardare i fatti e come giustamente ricordato io dico sempre stranamente su certi ambiti proprio quelli che sono nella cosiddetta agenda 20-30 guarda un po' li troviamo anche nel cosiddetto nuovo mondo appunto nell'area nell'area BRICS quindi insomma difficile dimostrare il contrario e poi siccome c'è un capitolo da Putin a Putin vogliamo parlare un attimo anche della figura di Putin io ho sempre sollevato tra gli argomenti critici cioè della ricostruzione che è stata fatta del perché poi è partita questa storia dell'Ucraina perché comunque lui ha iniziato questa come la chiama operazione speciale in coda al Covid cioè da quel giorno a quel 24 febbraio le tv hanno cambiato registro quindi siamo passati spesso anche con le stesse facce a parlare dell'Ucraina con le stesse modalità operative comunicative siccome non c'era stato un evento scatenante magari si potrà dire che tutto è avvenuto lentamente negli anni molti dicono che si era stufato del fatto che chi non doveva prendere posizioni e poi invece è entrato nell'orbita della Nato e poi era solidale con i russi del Donbass eccetera però sono tutte motivazioni che a me non mi hanno mai convinto troppo cioè alla fine questa emergenza perpetua è continuata anche grazie comunque a quell'intervento in Ucraina che ne pensi? Guarda io nel primo capitolo proprio del libro parlo proprio di crisi permanenti e ricordo che c'è un libro interessante che cito di Trotsky che è la rivoluzione permanente cioè il fatto che abbiamo bisogno di una rivoluzione permanente per una rivoluzione totalitaria ed è proprio questa perpetuazione del disordine sociale che porta poi alla distruzione dell'alter della diversità e il nuovo reset proprio prevede la distruzione definitiva del vecchio sistema e la trasformazione irreversibile di tutto ciò che ne resta ecco quindi andare da una crisi a un'altra è diventato oggi la condizione necessaria per far sì che la sospensione dello Stato di diritto diventi da eccezione diventi la regola perché noi sappiamo che quando abbiamo delle crisi l'ordine diciamo il diritto può essere sospeso per l'autoconservazione dello Stato e del diritto stesso ma quello che è un'eccezione quando diventa la regola poi abbiamo il sovvertimento dell'ordine e quelle istituzioni che sono state poste in essere per conservare l'ordine in realtà poi diventano le fonti del disordine sociale perenne disordine sociale che poi porta a questa trasformazione la crisi ucraina che comincia nel 2014 ricordo e che poi arriva alla sua esplosione in realtà secondo alcuni analisti da ambo le parti c'era un accordo tacito cioè la la Nato con a capo gli Stati Uniti di Biden ma anche la Russia hanno continuato a soffiare sul fuoco della crisi e perché perché ogni distruzione poi prevede una ricostruzione quindi anche una spartizione possibile dell'Ucraina la potremmo vedere in seguito si vocifera che Putin per esempio abbia proposto alla Polonia e altri stati confianti di ridisegnare la mappa dell'Ucraina quindi il Donbass per esempio che va alla Russia perché era di lingua russa eccetera ma anche le altre parti che sono confinanti con la Polonia per esempio potrebbero tornare alla Polonia ma queste sono cose che vedremo anche perché poi gli equilibri cambiano in questo momento l'equilibrio sembra che si sia spostato è vero che ricordo che c'è stato a tempo fa quando ha vinto Putin con l'87% è stato riconfermato guida della Russia i nostri media italiani non l'hanno dato molto questa notizia ma lo stesso Bergoglio leggevo su una testata russa si è complementato con Putin e ha proposto il Vaticano come piattaforma come succedanea ecco piattaforma succedanea all'ONU per perseguire alcune politiche internazionali di questo non ne ho visto traccia sui media italiani però ecco passare da una crisi all'altra come dicevi tu ritornando al discorso da quella Ucraina da quella pandemica quindi a quella Ucraina poi spenta o in prossimità dello spegnimento della crisi Ucraina alla crisi di Gaza tutto questo rientra sempre in quel processo di crisi continue anche perché potevamo sempre domandarci ma se Putin ha fatto questa operazione militare speciale perché visto che aveva le forze che aveva le capacità non ha risolto tutto subito in Ucraina ma sempre a piccole dosi perché non ha invaso prima l'Ucraina da una parte quindi perché non ha così esplicitato tutta la sua forza militare perché ricordiamo che l'operazione militare speciale poteva essere portata alla fine in una settimana dall'altra parte alcuni osservatori si sono chiesti ma perché la Nato ha sempre aiutato con molti limiti limitatamente l'Ucraina perché non gli ha dato sempre quello che ha promesso perché i famosi ricordiamo i cari armati Abrams che Biden aveva promesso a Zelensky non sono mai arrivati ecco domande anche i contingenti promessi dall'Occidente le varie armi ricordo una cosa che fece molto sorridere è che i poveri soldati ucraini che poi sono la carne da macello del governo ucraino di Zelensky dovevano combattere con armi di cui non conoscevano nulla e che erano costretti a usare Google Translator per capire per leggere il libretto delle istruzioni dei missili quindi queste crisi a mio avviso c'è una continuità tra queste crisi e credo mettiamola così non mi sorprenderei più di tanto se un domani uscissero delle evidenze tali per cui sia Russia e quindi Briggs e NATO e Washington abbiano così temporeggiato tacitamente per creare e portare a compimento le crisi tornando alla figura di Bergoglio cosa ne pensi anche delle modalità con cui è stato eletto tu prima hai citato la storia del sai che su Ratzinger ci sono delle narrazioni sul fatto che sia rimasto poi in carica fosse comunque lui il vero papa quindi che cosa ne pensi sia anche della fase storica in cui c'è stata l'elezione di Francesco e che cosa rappresenta cioè il collante per l'opinione pubblica per certe elite considerando anche che viviamo comunque in una fase in cui probabilmente dico probabilmente ma non abbiamo la certezza che comunque le parole del papa forse non hanno il peso che avevano in tempo almeno questa è la sensazione cioè comunque c'è uno scollamento anche all'interno del mondo del mondo cattolico cioè non so quanto oggi sia una figura così rilevante come era prima secondo te lo è ancora? Ma guarda io ho l'impressione che il papato sia stato anacquato la sua forza anche comunicativa ma non in sé come istituzione anche se questa è una conseguenza ma la figura stessa di Bergoglio ricorda per fare un esempio anche numerico ricordo per esempio gli incontri di Benedetto XVI che la piazza era piena le persone non si contavano adesso se si va a vedere l'udienza del mercoledì per esempio la piazza è vuota molti non si riconoscono più nella dottrina bergogliana perché? perché è palesemente contraria alla dottrina dei duemila anni di cristianesimo ora uno può essere cristiano o meno e però ormai è evidente che diciamo documenti ma anche esternazioni anche durante le omelie non abbiano nulla a che fare di Bergoglio ma anche dei suoi così amici non abbiano nulla a che fare con il deposito della fede cioè quando sentiamo faccio un esempio pratico per capirsi ecco quando sentiamo da Bergoglio che è la Vergine Maria che è una figura importantissima nella Chiesa Cattolica è una donna di strada o sentiamo per esempio che Dio non può essere Dio senza l'uomo questa è un'eresia è di impronta eghiliana gnostica quindi è chiaro che perché Dio è colui che è da sé in sé per sé senza l'uomo perché se noi diciamo che Dio dipende dalla creatura non è più Dio ora o sentiamo anche altre diciamo frasi che hanno colpito l'opinione pubblica tipo quando Bergoglio diceva che il Cristo sulla croce faceva schifo per esempio cose molto forti chi mai avrebbe detto certe cose soprattutto poi un Papa non potrebbe mai dire certe cose e ci sono tante altre esternazioni bergogliane come anche poi fiducia supplicans l'ultimo documento che è stato appunto vergato da Tuccio Fernandez con la firma sempre di Bergoglio è un documento che è come sempre ambiguo anche se questa ambiguità si sta sciogliendo piano piano e le cose stanno uscendo per quello che sono anche qui poi quel documento ha dato il via a che cosa? a dei movimenti omosessualisti che richiedevano il riconoscimento a 360 gradi della loro condizione all'interno della Chiesa ora al di là delle posizioni di ciascuno ma è chiaro che se un'istituzione per duemila anni ha avuto una certa direzione una certa direttiva una dottrina che è la dottrina della Chiesa Cattolica non può un documento l'ultimo arrivato insomma andare contro duemila anni di storia o perlomeno ecco è chiara la contraddizione che c'è tra un insegnamento di duemila anni e un insegnamento insomma una dottrina che va contro il deposito della fede per quanto riguarda il discorso delle lezioni di Bergoglio sono state fatte molte ipotesi quelle per esempio dall'errore sostanziale cioè Ratzinger era incapace di intendere di volere quindi il documento non è valido che a mio avviso è poco credibile per esempio io ricordo che ad aprire le danze è stato un intervento dell'avvocato canonista Patruno che nel duemilatredici diceva signori guardate che la declaratio di Benedetto decimo sesto non è valida perché ha ha aggiunto degli elementi estranei al documento cioè essendo una rinuncia e quindi un atto puro non può essere condizionata da date Benedetto diceva che sarebbe avrebbe perso la sua carica due settimane dopo quindi posporre un atto del genere ora essendo l'atto di rinuncia come l'atto di accettazione cioè un atto che ha i suoi effetti immediatamente non possono essere posposte le conseguenze e questo elemento che Patruno mise in evidenza nel duemilatredici quindi appena uscì la declaratio fu ripreso poi da Socci che con varie argomentazioni portò in luce l'ipotesi appunto che Bergoglio non fosse Papa ricordiamo non è Francesco fin quando anche abbiamo avuto Andrea Cionci che da tre anni e mezzo a questa parte con articoli e libri il famoso codice Ratzinger ha portato avanti l'ipotesi della sede impedita che però si basa sempre su che cosa? sul fatto che la declaratio di Benedetto decimo sesto non fosse valida cioè che Benedetto non si fosse mai dimesso e che quindi di conseguenza Bergoglio fosse stato eletto mentre c'era ancora in vita il Papa valido noi sappiamo che un Papa può essere eletto legittimamente validamente se il precedente è morto oppure se si è dimesso secondo il codice di diritto canonico quindi stando alla dottrina canonista ora secondo alcuni questo non è successo per cui molto io dico molto probabilmente quindi questa ipotesi non è così inverosimile parliamo sempre di ipotesi perché scientificamente finché questa ipotesi non viene validata da chi ha l'autorità per farlo perché ricordo che il diritto è qualcosa che è generato dalla parola o dallo scritto di chi ha l'autorità e quindi anche il diritto canonico è la stessa cosa quindi io per diciamo così correttezza le chiamo tutte ipotesi per quanto verranno validate quindi saranno vere ecco le considereremo vere quando chi ha autorità per farlo lo farà quindi ecco che questo contesto è chiaro che ha posto qualche perplessità già in lo tempore sulle elezioni di Bergoglio poi tutte queste sue esternazioni che vanno contro il deposito della fede lasciano un pochino attoniti quindi ci si domanda ma è veramente Papa Costui ecco quindi ecco che l'ipotesi di una elezione invalida trova viene corroborata da queste sue esternazioni e in modo particolare però vorrei dire una cosa che a mio avviso non è stata approfondita molto tutti hanno fatto un'analisi giustamente storica canonica eccetera ma a mio avviso è stata tralasciata o non è stato dato il giusto peso anche a quella che è diciamo così lo sguardo escatologico perché ricordiamo che la Chiesa per i cristiani e per la dottrina stessa non è una società umana e basta ma è una società divina in quanto la Chiesa è corpo di Cristo quindi non solo il diritto canonico non solo la storia della Chiesa eccetera ma è importante anche la rivelazione che ci arriva dai sacri testi dai padri della Chiesa quindi anche dalla teologia quindi c'è in questa compenetrazione tra teologia rivelazione e diritto canonico ricordo una cosa molto importante che nel 2016 Benedetto XVI viene intervistato da Peter Sevald in ultime conversazioni e Peter Sevald fa delle domande dice secondo San Malachia lei è l'ultimo papa lui dice tutto può essere e poi fa un'altra domanda molto interessante lei si ritiene l'ultimo papa del vecchio mondo o il primo del nuovo mondo e Benedetto XVI risponde entrambi dice io sono l'ultimo papa del vecchio mondo e il primo del nuovo mondo che ancora non è cominciato signori ce lo dice nel 2016 al terzo anno di regno di Bergoglio ora siccome il papa è uno solo non esiste un ministero allargato come diceva Gensbein anche lui diceva de facto abbiamo un ministero allargato cioè de facto vuol dire non de jure perché di diritto non esiste se Benedetto fosse anche solo un pochino papa lo sarebbe in toto quindi Bergoglio non sarebbe papa quindi Benedetto ci dice di essere l'ultimo papa del vecchio mondo e il primo del nuovo mondo che ancora non è cominciato nel 2016 allora la domanda è ma perché ha fatto la declarazione perché si è dimesso o ha fatto finta di dimettersi ma c'è tutta quella questione sul munus e sul ministerium che è un po' tecnica e su cui sorvoliamo anche se a mio avviso alcuni dicono che ha trattenuto il munus e lasciato il ministerio ma se leggiamo bene e se ci rifacciamo anche a un'intervista che fece Messori nel 2014 scusate a un articolo di Messori in cui riportava un passaggio del canonista Violi Violi diceva in questo passaggio che Benedetto non ha rinunciato al ministerium ma all'esecuzio all'esecuzione del ministerio quindi sembrerebbe che Benedetto abbia mantenuto munus e ministerio Petrino ma abbia lasciato la sede di Pietro come ha poi spiegato Patruno qualche mese fa durante un'intervista lui diceva guarda che Benedetto ha fatto come San Pietro San Pietro prima era vescovo di Antiochia nel momento in cui lascia la diocesi di Antiochia per andare a Roma non è che ha lasciato il suo munus Petrino cioè l'ufficio primaziale continua a essere papa lascia la sede di Antiochia per andare alla sede di Roma ecco e dice a padrono Benedetto ha fatto la stessa cosa se poi noi andiamo a vedere la declarazione di Paolo VI per esempio capiamo meglio anche quella di Benedetto cioè Paolo VI cosa disse nel suo declarazione qualora avessi una malattia grave eccetera eccetera rinuncio al nostro sacro ufficio di vescovo di Roma e di pastore universale della Chiesa quindi sono due le figure che il papa porta avanti è pastore universale della Chiesa e vescovo di Roma ora Benedetto nella sua declarazione rinuncia a essere vescovo di Roma non ha mai detto rinuncio a essere pastore universale e ultima cosa il perché di questa mossa di Benedetto lo capiamo solo da una visione escatologica e mi rifaccio all'ultimo libro di Peter Sevald dove lui non fa una domanda ma fa una considerazione molto interessante lui dice nel 2013 Agamben ha scritto un libro Il mistero del male Benedetto decimo sesto è la fine dei tempi e dice che le sue dimissioni sono per risvegliare la coscienza escatologica quindi sono per ragioni escatologiche perché si avvicini la famosa discessio la separazione tra Gerusalemme e Babilonia cioè quella che Ticonio e i vari padri Beda eccetera cose di cui parlo nel mio libro L'ultimo anticristo appunto parlano di separazione tra la vera Chiesa di Cristo e la falsa Chiesa di Cristo ebbene questa considerazione fa Peter Sevald Benedetto continua il discorso dicendo sì anche Agostino di Ippona nel suo Decivitate Dei parla appunto di Gerusalemme e Babilonia di separazione dell'una dall'altra quindi conferma con il suo discorso che le sue dimissioni hanno una svolta hanno questa ragione escatologica cioè servono a risvegliare la coscienza escatologica e a separare la vera Chiesa dalla falsa Chiesa ecco se noi leggiamo la Declaratio alla luce del contesto in cui si è svolta anche canonicamente ma la guardiamo anche dal punto di vista escatologico e questa io credo che sia permettimi una interpretazione autentica non perché è mia ma perché è dello stesso autore cioè è Benedetto XVI che ci dice il perché delle sue dimissioni dice come se dicesse le mie dimissioni hanno motivo escatologico e noi sappiamo che l'escatologia è legata alla fine dei tempi e quindi alla separazione tra Gerusalemme e Babilonia come scritto appunto anche nel libro dell'Apocalisse un ultimissimo flash uno che legge le posizioni espresse recentemente da Francesco in cui si scaglia contro l'ideologia gender contro l'utero in affitto cioè sembra che ebbero interventi critici rispetto anche no ad alcuni fronti proprio del globalismo come come interpretarle secondo te ma guarda è chiaro che non può dire dalla mattina alla sera e rovesciare tutto io ricordo ma questo ne parlavo tempo fa con un amico proprio di questo di questa tematica e lui giustamente diceva ma guarda che pure il diavolo dice la verità a volte cioè dice 99 cose vere e una falsa ma è proprio quella falsa che tu repoti vera che poi ti rovina la vita quando per esempio leggiamo nel Vangelo che i demoni scappano davanti a Gesù dicono noi sappiamo che tu sei tu sei il santo di Dio il Messia e lui dice zitti e li porta al silenzio perché la verità non può essere annunciata dal padre della menzogna ora è chiaro che alcune cose susciterebbero sdegno e rivolta da parte di tutti quindi bisogna portare avanti un'istanza e l'altra il problema è che la nuova dottrina viene presentata sotto le false spoglie dell'ortodossia perché quando alcuni peccati una volta c'erano dei peccati nel catechismo che erano chiamati i peccati che gridano al cospetto di Dio vengono derubricati a peccatucci è chiaro che c'è uno svuotamento dall'interno il problema è che per distruggere la chiesa cattolica ricordo che tempo fa c'era un mi raccontava una cosa che durante l'occupazione napoleonica un cardinale disse ma vuole distruggere la chiesa non ci sono riusciti i predi figuriamoci se ce la fa Napoleone cioè dall'esterno la chiesa è inattaccabile c'era bisogno come scrive un libro di un vescovo woke che dall'interno distruggesse e lucorasse la chiesa perché ricordiamo che lui si scaglia apparentemente contro ma poi informalmente quando dice chi sono io per giudicare lì ha aperto un varco quando viene pubblicata fiducia supplicans lì ha aperto un altro varco perché c'è stata una riorganizzazione ricordo che c'era una testata americana che diceva che dopo questo documento fiducia supplicans tutto il mondo lgbtq si era riorganizzato e portava avanti delle istanze per conquistare i diritti all'interno della chiesa cattolica quindi basta poco per poi rovesciare il tutto è certo che lui certe cose non le può dire apertamente perché deve ancora mantenere una certa un certo decorco nell'ufficio che ricopre però piano piano poi sono sempre i dettagli le virgole che cambiano tutto senza che ce ne accorgiamo ed è questa la rivoluzione permanente cioè cambiare le istituzioni dal di dentro senza che nessuno se ne accorga la famosa rivoluzione permanente che trasforma la democrazia in democrazia totalitaria e la stessa procedura la stessa politica la troviamo all'interno anche della vita religiosa ricordo che sempre Schwab qualche anno fa in un'intervista disse abbiamo infiltrato tutti i governi con i nostri uomini abbiamo infiltrato anche le istituzioni religiose non c'è nessun leader religioso che non abbiamo infiltrato e questo l'ha detto mi sembra nel 2018 credo adesso non vado a memoria quindi notiamo che la politica di distruzione dall'interno viene portata avanti quasi simultaneamente e ha una stessa cabina di regia Armando io consiglio davvero questo libro le radici del male da Maltus a Bergoglio quando il genere umano non è perfettibile è il libro di Armando Savini qui trovate anche il canale Telegram di Chaos Mega grazie Armando e spero di vederti presto grazie a te e buona giornata